E' stato provvidenziale, oltre al pronto intervento della polizia che li ha braccati anche utilizzando l'elicottero, la collaborazione delle cosiddette sentinelle sociali, ossia i mezzi di informazione che hanno diffuso le foto segnaletiche dei fuggitivi e i residenti della zona che hanno notato la loro presenza in un canneto. Dopo una giornata di fuga sono stati infatti catturati nella serata di ieri dagli agenti della squadra volante e della squadra mobile i due detenuti di nazionalità romena evasi nella mattinata dal carcere San Donato di Pescara. Floris Covaccio e Denis Costel Strauneanu, di 22 e 25 anni, si erano nascosti in una zona poco distante dalla casa circondariale. I fuggitivi sono stati catturati in via Lago di Vico, in un canneto nel quale erano arrivati dopo aver scavalcato le recinzioni di diverse abitazioni. Se avessero scavalcato l'ultimo cancello che si trovava nelle immediate vicinanze sarebbero arrivati in un'area incolta e alla ferrovia e avrebbero fatto perdere le loro tracce. Ha evidenziato il dirigente della squadra mobile Dante Cosentino illustrando i particolari dell'operazione alla stampa insieme al vicequestore Alessandra Bucci e al dirigente delle squadre volanti Davide Zaccone. È stata una zona sempre presidiata, tant'è che loro non si sono mossi da un canneto. Nel momento in cui hanno alzato la testa, perché probabilmente anche stremati dal caldo per abbeverarsi e cercare di focillarsi lì vicino, sono stati notati da un residente. Ci ha chiamati, costantemente al telefono con noi siamo arrivati a una breve fuga a piedata con scavalcamento di cancelli di varie abitazioni fino poi a essere inchiodati lì in una traversa di via San Donato. È una cosa che io personalmente ripeto sempre, la collaborazione tra tutti coloro che si trovano su un determinato territorio, siano civili, siano militari, siano forze di polizia, è fondamentale perché da soli poco possiamo fare ma forse con il contributo di tutti riusciamo dove il singolo non può. Cosa hanno detto quando li avete catturati? Non hanno detto nulla, poi in ufficio hanno detto che insomma erano lì da tempo, non ce la facevano più e ogni volta che si muovevano alzavano la testa vedevano o l'elicottero o le macchine intorno e quindi non hanno potuto muoversi e allontanarsi. E all'indomani della cattura e resa dei conti sulle responsabilità il deputato della Lega Antonio Zennaro ha chiesto l'intervento del ministro della giustizia Marta Cartabia e con lui anche tutti i sindacati di polizia penitenziaria. Parla il coordinatore regionale FPCGL Abruzzo Molise, giustizia Giuseppe Merola. La situazione del carcere di Pescara continua a destare seria preoccupazione ed allarme. Ieri altri due detenuti sono evasi dalla struttura penitenziaria tenendo conto di altri due detenuti uno evaso lo scorso luglio e uno lo scorso agosto del 2020. Come funzione pubblica CIGEL Abruzzo Molise da tempo stiamo denunciando le carenze organiche, le carenze strutturali che attanagliano il buon andamento della struttura penitenziaria pescarese. Adesso basta, è giunto il momento veramente che l'amministrazione penitenziaria metta fine a questo scempio. Ieri con una nota indirizzata alla ministra della giustizia, al sottosegretario e all'ufficio ispettivo del ministero della giustizia abbiamo chiesto di accertare le responsabilità e di avvicendare i vertici della struttura. Lavoratrici e lavoratori del comparto sicurezza e del comparto funzioni centrali chiedono rispetto, chiedono dignità e chiedono soprattutto delle risposte autorevoli e delle risposte concrete.